Vola con la fantasia! Ecco il mondo dei Puzzle Bowl! E pezzo dopo pezzo, un mappamondo che gira! La lampada di Kars! Batti le mani e accendi la lampada delle princess! Con Puzzle Bowl, illumina il tuo mondo! Ecco la lampada notturna Peppa Pig! Batti le mani e si accende! Puzzle 3D Ravesburger, illumina il tuo mondo!